Hanno incrociato le braccia in Piazza Unione a Pescara sotto la sede del Consiglio regionale gli operatori della sanità privata che operano nelle strutture dove si applicano i contratti a Iopearis Sanità Privata e RSA, un settore che coinvolge in Italia circa 200.000 lavoratrici e lavoratori. La manifestazione è indetta da FP CGL, CISL-FP e UIL-FPL, Vincenzo Mennucci, segretario generale CISL-FP Abruzzo e Molise. Riteniamo che i lavoratori della sanità privata fanno lo stesso lavoro dei lavoratori della sanità pubblica pertanto stesso lavoro, stessi diritti, stesso salario. I contratti sono due, come abbiamo detto il contratto Iopearis Sanità Privata e il contratto Iopearis RSA. Quello Iopearis Sanità Privata è scaduto da quattro anni e da un anno stiamo cercando di lavorare ininterrottamente per riprendere in mano la contrattazione. La parte datoriale si ostina a dire e a dichiarare fermamente che le risorse per il rinnovo del contratto collettivo debbano essere messe dalle istituzioni e quindi dalle regioni e dallo Stato. Per quanto riguarda invece il contratto Iopearis dell'RSA scaduto da 12 anni, si sta lavorando ormai da tanto tempo a far sì che questo contratto diventi un unico contratto e si allini ovviamente a quello della sanità privata, delle cliniche private, non solo ma anche a quello della sanità pubblica, per cui stiamo già ridiscutendo il contratto del 2022-2024.